Faccio un po' di scingare, faccio un po' di scingare Faccio un po' di scingare Ho intendo tutto, ho capito tutto Io e te parliamo in italiano Mi sento a casa, mi sento Ciao ragazzi, beh, ho sentito senza voce Ciao ragazzi, beh, forse ancora non mi sono qui Per ragazzi, sono Criu E oggi siamo qui con la S Roma E tutti i giocatori, amici, con nazionali Anche perché abbiamo Emerson Perez, Castan Un sacco di amici, poi i pellegrini Siamo a distempo di sì No, mi sono un attimo emozionato Abbiamo poi l'amico Inza Che adesso sfideremo Pellegrini e Emerson E ovviamente li Che facciamo? Li batteremo Li batteremo Adesso Iniziamo, facciamo un due contro due Ragazzi, cinquantamila like Un prossimo video qui Insieme ad altri giocatori Vero? Anche tu che stai A posto Dai, facciamo Roma Roma? Sei pronti? Gioca partita Ok, ok, ti carico? Abbastanza, dai Premi questo qua Devo cambiare una cosa lì Kawaii, kawaii Ora partiamo Guarda, sono un po' teso Perché ciò che a volte non passi la palla E poi tutto da solo I bianchi, scusate Bianchi siamo noi Io e Inza No, lui è lui però È rosso Sì Lui è rosso, sì Mazzotto è piccolo Sì, facciamo così che a vedere No, scusa Bravo 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 Quale è? Quale è? Questo è uno Quando giro a palo per quel tempo che viene alla fine poi... Oppa Dopo finisce la partita di non c'è No, no, no Così no Non hai i giochi fammi i crociati Alomau Aspetta l'ho lungata No, poi c'è da fare i schemi C'è un po' di alto Aspetta Mamma mia Mamma mia Dio contro piedi Mi fallacci Oh, ma chi è questo? È una pere Oh, ecco me Vai, vai, vai 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 Scappa 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 Spalla libera Scappa Da Pellegrini che capra Guarda Scappa Oh, oh Brava Guarda, come ne è con tutto Non è con tutto Non è con tutto Non vedo dove sono Allora La cosa tappa Oh, no Vengo mio, vai Vengo mio, vai Apri là Qualcuno è rotto lì, eh Tranquillo Ma chi ha girato Non abbiamo Madonna, via tutto, via tutto, io non vedo niente, cioè vedo ma vedo un... Mamma mia, guarda la merda, stanno facendo l'avvento. Guarda lo passa, passa tutto storto. Florezzi. Florezzi. Everson mi ha dato una fiducia del sino sinistro, proprio... Brava Whiting, che torni. Scappa, scappa, scappa. Sì, scappa. Guarda come giochiamo, uno, due, tre, vai. Torna, 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 torna che si spingono. Oddio. Oddio, ma ha fregato. Tagliela. Tira! Oh! 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 Ascolta,差 2. Eh! Tommi d'ora! Capiamo cuore! Sen'è tanto! Sem Kickoff! Facciamo ciclo. Andiamo via via, vai. Abbiamo Dilla, Tagghiolo. Ci siamo ain niente! Oh! Se niente si chiama removable! Cianas sueli Eye ancora va a 7 separate e ci five ellas! Mi raccomando, lo sai che è? Tu non ciれて, però... Però scusa non esiste! non è che potete venire scuse ecco, ecco, secondo Emerson non ci ha crociato, non ci vede sta giocando bene, bene, bene hai 11 gialli da prendere bravo bravissimo, riparti guardate lo scappano vedi quello lo scappano bravissimo 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 è fermato il tasso va bene, va bene va bene, va bene va bene va bene che cosa è occultato? no, è un po' ah, è un uffio hanno più inteso di noi, bravo molto più inteso noi abbiamo fatto il giorno insieme eh, sì bravo mettiamole in maniera parte dai, la guarda guarda, mettila guarda, mettila guarda, mettila oh 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 ah, mania non sai no, no, stò molto male è proprio così a carcione proprio spazza via oh 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 che parlo? grazie, grazie, grazie è finita, è finita grazie oh 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 di gore oh 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 yeah oh 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 non ci troviamo proprio con questo bravo ho cacciato bene è il momento è il momento non vede di qua tira mamma mia non era lui ma l'ho salvato teccato per favore per i ragazzi non c'è non tanto no febbrai no ma che aspetta chi? stanno litigando è nervosismo è una cosa buona già ciao Ale non so dove c***o chi stai a fa' stavo aspettando che fai un movimento che fai un movimento aspetta aspetta che questi ti ammazzo un decollo madonna bravo Diego ma stai vicino non vede te guarda che sto ma mamma quanto vuoi quanto vuoi quanto vuoi quanto vuoi ma stai a fa' attento a se cosa stai a fa' non vede ma non lo so ma non lo so ma non lo so ma non lo so scappa 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 te lo ha data te lo ha data non ti devo c***are vai bravo ma chi era? ma sei emozionato? lei non c***o mi ha wherever bravi bravi si era giocato rotto da inizio partita no non dall' anymore che c***o ah 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 di qua di qua ahhh aspetta oh la prendi, metti il corpo mamma mia che fallaccio bello che abbiamo fatto tu perché troppo palla sono passati prima go oh 73 un po' fini così un po' fini così un po' fini così 1-2 gooo così finire non c'è un gol si vede si vede il calcio come è vai il calcio dai il calcio è ingiusto vieni del caffè il calcio questo video sicuro mamma mia come stai bene dopo i tuoi interventi portiere? sei te? oddio non fa niente hanno una crisi fermateli oddio chi? nooo ma te vostri eh hai 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 entra dentro di là di là di là di là ma mia hai 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 ma si è a ballare la zamba lui no che ha passi dai ho capito ma si è venuta a ballare la zamba qua ecco il gol non è passato facciamo un passaggetto vedete noi l'indiciamo qualcosa è finita 1 a 1 a 2 arrivo i voletti guarda i dati guarda ci hanno noto io non ho visto niente oh faccio battere prima Florez dai io sono in porta un primo rigore chi batte? no aspetta toglilo clicca su ho fatto ho fatto nooo ma di tantissimo si rivede ora ora tu volete ora 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 ho fatto 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 non ha sentito vedere ce lo fai senti che fai dai siamo pari no mantengono ORT mamelo lo straccio facile l'ha tirato You gottelle a dove dove? vieni su con le bracciate su 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 no 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 aspetta torna in Animation ah dai Stand up ah 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 come? ma a fatti non ha detto e vieni come avrai? Vai fai cura vai bravo bravo Eddie attenzione cos'è che sei avverso che tensione Racha botta centrale non te sbagli mai ecco la piazza di qua e lo parla attenzione toglilo l'ho tolto l'ho tolto raga andiamo questo è il calcio questo è il calcio questo è il culo è il culo calcio partita giocata malissimo ho fatto una partita di merda ok io tanto non potevo mai giocare abbiamo un gioco tutto diverso vedo il gioco con Daniele vabbè ragazzi questo video è finito abbiamo vinto per culo che abbiamo vinto per culo però raga 40.000 like un prossimo video insieme a tutti noi ringrazio da essere Roma per averci ospitato vi do un saluto un abbraccio e al prossimo video ciao 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 ciao